Sono cominciati stamattina i lavori in via Dusmet per l'allargamento della corsia in modo tale da far defluire meglio il traffico degli autobus ma anche delle autovetture verso piazza Borsellino e via Domenico Tempio. Una nuova corsia vicino all'ingresso del parcheggio Amt limiterà le code dei veicoli in transito. In quel punto infatti si creano frequentemente code di veicoli per via dell'insufficiente larghezza della carreggiata di percorrenza contigua alla corsia di accesso all'area di sosta. I lavori sono stati disposti dal sindaco Salvo Pogliese e diretti dal capo di gabinetto Giuseppe Ferraro e saranno realizzati in economia da operatori del comune della multiservizi con doppi turni di lavoro. Consistono nella riduzione dell'attuale aioala e dovrebbero concludersi in soli tre giorni. Gli interventi di manutenzione verranno presidiati da agenti della Polizia Municipale in modo da dirigere il traffico veicolare nel modo più spedito.